Siamo con una quota rosa di questo Day 1B del Dex 2, Antonella Di Cioccio, detta la Ricciotta, appunto perché è la moglie di Roberto Ricciotti. Allora, innanzitutto come sta andando? Benino, benino. Come sta andando tua moglie, visto che la stai seguendo? Sta giocando abbastanza bene, abbastanza chiusa. Va avanti, lei è chiusina, infatti a casa la chiamiamo. Grazie. Ogni tanto io porto la scopettina e diamo una spolverata anche alle Fischer, perché sennò... Cattivo! No, no, a parte che si sta giocando bene, va bene. Io le carte le vedo, mi sderenano, io non ci posso fare nulla. Ok, allora un grosso in bucca al lupo ti lascio andare a giocare. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.